Cora. Sono Luca Pizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Nella scuola italiana, e forse non solo italiana, sta succedendo qualcosa di impensabile fino a un che aveva fatto notare il ministro Salvini, in un rarissimo momento di lucidità, raccontando di non riuscire a capire la pagella della figlia, perché i voti avevano lasciato spazio a dei giudizi totalmente incomprensibili. All'inizio, come tutti, pensavo fosse colpa di Salvini il fatto di non capire, però poi avendo io una nipote in età scolare ho controllato. E aveva ragione lui. Il voto, anzi il giudizio più basso che possa prendere Maddalena, è in via di prima acquisizione, che oltretutto non è manco un giudizio, perché se gli altri tre giudizi possibili, che sono base, intermedio e avanzato, in qualche modo spiegano lo stato di apprendimento dell'alunno, quella supercazzola dell'acquisizione non dice niente. Ci dice che il giovane asino è lì che tenta di acquisire ma magari non ne ha voglia o semplicemente è più tonto degli altri, anche se non capisco come uno dei vostri figli possa essere tonto, dato che sono tutti dei geni con delle idee innovative sul futuro del pianeta. Giudicare migliaia di persone attraverso dei numeri? Non siamo dei robot! Sono intelligentissimi, ma evidentemente non possono leggere un 4 se no rischiano di deprimersi, belle stelle. Non solo, ultimamente mi ha raccontato, sempre mia nipote, che è intelligentissima oltretutto, che le correzioni nei compiti non vengono più fatte con la penna rossa, perché poverini il rosso potrebbe turbare il ragazzino. Le correzioni vengono fatte con la penna verde, ve lo giuro, eh, perché il verde è un colore che rilassa. Ma cosa sono? Dei bambini o dei tori? Io mi chiedo come si possa pensare che questo sistema di difesa funzioni, soprattutto in un periodo in cui da adulti si prendono voti poi per qualsiasi cosa. Anche perché quella del voto è diventata una scorciatoia giornalistica tra le più usate. Non c'è giorno in cui non ci si trovi davanti alle pagelle di qualcosa, dalla puntata del Grande Fratello, alle gare di atletica. Ci sono solerti e preparatissimi professionisti, boh, a dirci i voti dei vestiti di canne o dei comizi dei politici. Credo sia tutta colpa del mio amico Giorgio Terruzzi, uno dei primi a dare i voti in tv e uno dei pochi che dava e dà i voti in una materia su cui è preparatissimo i gran premi di automobilismo, con una voce e una cadenza che potresti anche prendere due, ma lo dice così bene che lo accetti e torni a posto. Adesso è tutta una pagella e se alcuni credono che i figli non reggano un voto basso, quelli che fanno informazione credono invece che gli adulti non possano capire un ragionamento un po' più complesso. Quindi se nel titolo dei voti del Golden Gala di atletica scrivi Marcel Jacobs voto 5, il plantigrade che ti sta leggendo penserà Jacobs no bene ed è inutile stargli a raccontare che al Golden Gala Jacobs manco c'era per un problema muscolare ma chi se ne frega non conta bisogna andare al prossimo voto, dato poi non so da quale piedistallo immagino che per dare il voto a dei vestiti si debba essere esperti di vestiti ecco, ma quanti sono gli esperti così esperti di vestiti o di televisione da poter stare su quel piedistallo lì? Abito seducente, sensuale, molto scollato sulla schiena, mi è piaciuta molto Otto. Sicuramente ce ne sono eh, ma ho paura che quelli, quelli bravi non facciano le pagelle, ho come l'impressione che quelli intelligenti provino a elaborare un giudizio un pochino più complesso. Alla fine sui voti dei giornali ora si basa anche il passatempo più passatempo del nostro tempo, quel fantacalcio che rimbecillisce generazioni di maschi aspiranti murigno. Ecco io non mi ricordo i voti che ho preso da adulto, quelli da ragazzo, però quelli da adulto facendo la tv no, anzi forse mi ricordo ma solo quelli positivi. Però ci sono due frasi che mi hanno segnato che riguardano i voti. Una la disse alla mia prof di filosofia a mia madre e più o meno era così e le disse se posso togliere un voto a suo figlio lo faccio perché si vede che non ce n'ha voglia. Un sistema educativo che poi ha funzionato alla grande con me eh. Ma l'altra, l'altra sui voti è una battuta di Carlo Denei, un autore tv e un mio compagno da ragazzo nel gruppo dei cavalli marci. In un suo monologo raccontava della sua scuola e di un suo compagno di banco che aveva preso otto e diceva una frase che vale anche per me. Diceva Belin, per me otto non era proprio un voto, era un numero. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di whatsapp o testimonianze di nuove chat di whatsapp potete scriverci a nonhannonamico.com o nonhannonamico.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.